Quello del doping nelle palestre è un mondo sommerso dove ci sono più esibizioni che gare vere e proprie ed è difficile essere beccati dai controlli. Non è successo così in città invece, dove le forze dell'ordine avrebbero individuato e bloccato un presunto traffico di sostanze illecite proprio all'interno delle palestre. 13 soggetti individuati, adesso indagati, avrebbero gestito un presunto giro di farmaci dopanti all'interno di alcune palestre tra gel e vittoria, sostanze che avrebbero smerciato a diversi atleti che poi avrebbero anche conseguito importanti risultati in diverse gare sportive. Ieri, davanti al giudice Mari Camarino, è stato aperto il dibattimento al loro carico. Sono indagati per ricettazione e utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Gli imputati rispondono del presunto uso e di un'eventuale commercializzazione irregolare di sostanze per il fisico. I PM della Procura e i poliziotti ritennero che fossero vietate. Gli accertamenti avviati su altre vicende si concentrarono successivamente sui frequentatori di alcune palestre in città e nel ragusano, tra le ipotesi contestate e anche la ricettazione. Le indagini condotte dal commissariato di Gela e coordinate dalla Procura della Repubblica sono state avviate nel febbraio del 2018, quando nell'ambito di un altro procedimento penale instaurato a seguito di una tentata estorsione per la compravendita di una palestra erano emersi numerosi contatti, tra alcuni indagati, finalizzati all'acquisto e alla successiva vendita e somministrazione di steroidi anabolizzanti assunti dai frequentatori di palestre gelesi. L'attività di indagine ha consentito così di scoprire i soggetti che gestivano lo smercio degli anabolizzanti nelle palestre e canali illeciti di approvvigionamento delle sostanze, permettendo la completa ricostruzione dell'intera attività di commercializzazione. Nelle intercettazioni raccolte è emerso che gli indagati, che utilizzavano un gergo allusivo dissimulato simile a quello abitualmente utilizzato dagli spacciatori stupefacenti, si approvvigionavano presso attività commerciali di Gela, Vittoria e Comiso tramite siti online e farmacie. Nel corso dell'inchiesta gli investigatori hanno eseguito numerose perquisizioni locali che hanno portato a diversi sequestri sostanze vietate. Le perquisizioni sono state eseguite nel marzo del 2018 presso palestre, esercizi commerciali e private abitazioni degli indagati a Gela, Vittoria e Comiso. Il gruppo del Tribunale dispose poi il rinvio a giudizio. Le difese invece si opposero escludendo irregolarità e in molti casi spiegando che i prodotti e le sostanze usate erano liberamente acquistabili tramite siti internet specializzati. Secondo gli investigatori invece si riscontrarono casi di malori dovuti proprio all'assunzione delle sostanze. Alcuni degli assuntori degli anabolizzanti nel corso delle indagini infatti avrebbero fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, avendo accusato in alcuni casi sintomi o disturbi e palpitazioni, in altri casi tachicardia. Le sostanze pare fossero nella disponibilità pure di atleti che partecipavano a competizioni amatoriali di bodybuilding. In apertura del dibattimento sono state respinte le eccezioni preliminari avanzate da diversi difensori, legate prevalentemente alla possibile genericità dei capi di imputazione.